Alimentazione sana e territorio, l'importanza di mangiare genuino valorizzando i nostri prodotti. La scelta quotidiana di quello che si mangia ha una ricaduta sulla nostra salute, ma anche sull'economia del territorio, oltre a rivelare implicazioni sociali, culturali, identitarie. Come mangiamo insomma racconta quello che siamo e influisce sul nostro benessere. A questi temi è dedicato il convegno promosso da Confcommercio Sondrio, dalla sua associazione Panificatori e Pasticceri e da Coldiretti in programma mercoledì alle 16.45 presso la Camera di Commercio. Un'occasione non solo per addetti ai lavori, ma soprattutto un momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto a tutti. Dopo i saluti dei presidenti di Confcommercio e Coldiretti, Loretta Credaro e Alberto Marsetti, il programma prevede gli interventi di Gloria Capitani, o biologa nutrizionista presso il Policlinico Sandonato, che parlerà di corretta alimentazione e prodotti freschi. A seguire Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso l'Università Yulm di Milano, si occuperà dell'evoluzione delle abitudini di spesa in campo alimentare e di come il marketing influenza le nostre scelte. Sarà la volta poi di Giacomo Moioli, tra i fondatori di Slow Food, di cui è stato vicepresidente, esperto di comunicazione legata al territorio e ai suoi prodotti, che tratterà il tema Valorizzazione dei prodotti di qualità, espressione del territorio. A concludere l'intervento di Luigi Cao, presidente dell'Associazione Panificatori e Pasticceri della provincia di Sondrio, che illustrerà il progetto Segale 100% Valtellina, varato con l'obiettivo di riportare in valle un'antica coltura per la produzione di pane con farina di segale locale, coltivata in modo naturale e senza fitofarmaci. Questo convegno, spiega Loretta Credaro, presidente dell'Unione Commercio e Turismo di Sondrio, nasce dalla particolare sensibilità dei promotori, perché venga privilegiato ciò che proviene dalla nostra realtà di provincia montana, innescando un circolo virtuoso di identità e valori legati alla nostra terra e di genuinità delle produzioni locali, la cui reperibilità è garantita dalla rete dei negozi di vicinato, di cura del territorio, in un'ottica di sostenibilità e anche in una logica di valorizzazione turistica. L'invito dunque è a partecipare numerosi. I prodotti del territorio sono alla base di un'alimentazione sana ed equilibrata, aggiunge Alberto Marsetti, presidente di Coldiretti Sondrio. Sceglierli è un segnale di attenzione alla tutela dell'ambiente e un sostegno all'economia e all'occupazione locale.